Confartigianato e CNA hanno espresso il proprio disappunto per le modalità e il contenuto del nuovo disciplinare integrativo dell'area marina protetta delle Cinque Terre per le attività di noleggio e locazione natanti. Riteniamo non ci sia stato un atteggiamento franco tra il parco e gli operatori, ma quel che ci dispiace personalmente è la mancanza di rispetto nei confronti delle imprese e del lavoro. Va precisato che Confartigianato e CNA non hanno mai visto la bozza del disciplinare né in fase di elaborazione né in fase di messa a punto del testo definitivo inviato al Ministero dell'Ambiente. Riteniamo siano stati disattesi gli impegni assunti dal parco durante una partecipatissima riunione promossa da Confartigianato e CNA in provincia che si è tenuta a febbraio. Sono i criteri di premialità previsti dal bando gli aspetti più discutibili, ad iniziare dal fatto che si preveda che si sia una premialità se l'attività sia l'unica attività esercitata all'interno del parco, una premialità per le unità dotate di motori conforme alla direttiva 2013-53 dell'Unione Europea, uno scarsissimo punteggio attribuito all'anzianità delle attività che esercitano all'interno delle Cinque Terre. Per questo abbiamo chiesto, incontreremo a breve i vertici del parco nazionale delle Cinque Terre per auspicare che sia ancora possibile una mediazione tra le imprese e il parco per tutelare le imprese che erano autorizzate nel 2019 ad operare all'interno del parco.